Ah, pista morta. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Andiamo. Cos'è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tommy? Non siete insieme? Significa che è successo qualcosa? Abbiamo avuto una specie di discussione. Ah, non ci vedo. Riguardo a cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che è venuta la luce. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo l'ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Com'è andata l'ultima volta che ne hai visto? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Wow. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Eh. Beh, Bruno, senza il tuo aiuto, raggiungeremo per questo. Andiamo avanti. Ah, 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 wow. Cos'è? La lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idro cosa? Usa, usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. Come va? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Ok. E come facciamo ad aprire il fiume? Ah. 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 Con questa siamo a metà. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Ci siamo. Autore dei testi. Grazie. Grazie. Troverò qualcosa. Tienti forte! Grazie. 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 Ok Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Grazie. 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 Tommy. Grazie. 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 tutta. Ecco, è consumata, ma è ancora bella. No, grazie. Sicuro? Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Ma noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non vero? Ma è il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Ehi, bello. Quello è Buckley. Non è proprio un cane da guardia. Ma che bravo che sei. È utile averlo in giro. Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo. Fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. Beh, vediamo cosa abbiamo. Grazie a tutti. Sì, sembra andare. Sì, sembra. Sì, sembra. Sì, sembra. L'abbiamo fatta, ragazzi. Ottimo lavoro, ragazzi. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia? L'hai visto? Impressionante, no? Mi devi due milioni di dollari. Ok, Joel. Andiamo a parlare. Ma è davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa alla ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? Ah, dai! Lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere venti uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia, ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reggiti la parte del fratellino che fregna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. 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 Sì.